Rimarrà chiusa fino all'8 agosto la piazzetta paleocristiana di Pestum. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione. Il progetto di ammodernamento è stato redatto dal Comune e dalla sovrintendenza. Per l'intera zona il Comune ha istituito il divieto di circolazione e sosta. La chiusura interesserà tutta la piazza, a partire dall'intersezione con via Magna Grecia. Per i residenti e per chi dovrà accedere alla chiesa o alle attività commerciali ubicate nella zona sarà garantito un percorso pedonale e prevista la rimozione forzata per tutti i veicoli che non rispetteranno gli obblighi e i divieti prescritti dall'ordinanza. La riqualificazione non sarà solo urbana ma anche sociale. La piazza diventerà completamente pedonale. L'intervento prevede la rimozione di tutti gli elementi di arredo urbano, dalla recinzione in ferro alla pavimentazione in asfalto. Sarà realizzata una torretta scomparsa, da usare in caso di eventi culturali, munita di prese elettriche e di un impianto di illuminazione. Il piano di calpestio della piazza sarà rialzato. I macciapiedi esterni saranno incassati nella nuova pavimentazione in pietra volcanica. Saranno eliminate la parete e la recinzione metallica, che dividono piazza basilica dall'area dei giardini del museo, così da ottenere l'ampliamento visivo e spaziale dell'area e abbattute le barriere architettoniche.